Hogwarts Legacy. L'ho aspettato per anni, voglio ve lo giuro da quando è uscito fino ad ora. Questa è un'opinione su Hogwarts Legacy di un patito di Harry Potter che non può giocare si stanno a sette ruine perché ogni tanto una pelle se la deve pur fare. Quindi questa serie è per quelli come me. Se hai una vita e vuoi ascoltare comunque qualcuno parlare del tuo gioco preferito, questa è la serie adatta. Il gioco comincia con la creazione del personaggio. Molto varia, si può cambiare l'aspetto in modi molto specifici, addirittura si può cambiare il timbro tonale del tuo personaggio. Consiglio, non lo facite perché fa ridere. Nel momento in cui vai ad abbassare oppure alzare il tono della voce del tuo personaggio è palesemente fatta a computer. Che bella soddisfazione. Qualche ragnatela e un po' di puo. È stata bellissima. Io ho fatto quest'errore. A lungo andare ti ci abitui, però all'inizio è un crucio nella wallera. Il gioco parte e conosciamo l'amatissimo professor Fig che immagino sia un antenato di Arabella Fig, la vicina a Magano di Harry Potter. Subito veniamo immersi in una tarantella stranissima mentre siamo andando ad Hogwarts e sono molto felice che nel momento in cui quel cristiano del ministero muore appaiano i testral. Bel dettaglio. Come ce l'ha stato già annunciato, ci vengono presentati molti nomi che già conosciamo. Lo stesso Phineas Black, che conosciamo nella versione dipinto nei doni della morte. La professoressa Wesley. E possiamo sentire anche il cognome Gonte. Lo stesso Rockwood dovrebbe essere un antenato di Augustus Rockwood, ovvero un mangiamorte di Voldemort. Guarda, ci capite una cappellone di questa casa. Felice di come hanno gestito la situazione. Citazioni, perché comunque noi pochi fanservice ci voleva. Infatti questo gioco a livello di ambientazione è fatto a mostro. Hogwarts è fatta benissimo. Hogsmeade. Ma secondo me, seppur questa cazzo di ambientazione sia a mostro e ti dovresti sentire dentro al gioco, l'immersione nel mondo è fatta molto male. In un gioco painworld del genere basato su un mondo di maghi, di magie, io vorrei poter almeno utilizzare accio, levioso, che fossero sotto i vignardium leviosa, su tutte le cose che capitano. Cioè, non solo su quello che decidi tu, che facci, mi lanci un incantesimo dieci volte, e facci a uno studente reagisci una volta, ma che marorro sto buffa nepaliata a chi ste reagisci. Mi fa anche molto strano il fatto che ci sono le missioni in cui ci sono i prefetti e quindi ti devi nascondere perché è notte e poi di solito, se stai per cazzi dei tuoi, puoi girare di notte liberamente in sciudere un bucazze. Questa questione dell'immersione nel gioco poteva essere fatta un po' meglio. Poi non so voi, ma io vengo rallentato da una cifra di cose. Cioè, mi faccio proprio distrarre. Ogni volta che vedo un gatto la giacca razzata a forza. Non so se anche voi avete questo problema come me, ma io devo usare Reveglio ogni tre pass, perché non lo so, ci potrebbe essere qualcosa di nuovo che mi sono perso. Il gioco è sicuramente un gioco pesante e qualche bug non manca. Nulla di troppo eccezionale, qualche sparizione casuale di oggetti e qualche piccolo lag a volte. Potrebbe essere anche il mio computer, seppure è un computer buono. Qui vi lascio le specifiche. Giudicate voi. A me non me ne fotto. Comunque, a prescindere da tutto, mi piace tantissimo l'esplorazione e come viene presentata con tutti i vari collezionabili che ti fanno venire voglia di andare in giro. Io, ad esempio, mi sono preso un'oretta, credo, dove sono andato in giro di notte a picchiare gente a caso. Questo però mi ha permesso poi di trovare questa sfida della magia antica che ha permesso alla mia barra di magia antica di crescere. Se non essi girato nero con mio scemo non l'avrei trovata. La sfida in sé per sé non è nulla di che l'avrei resa un po' più difficile. Vabbè, farò magari più avanti. Comunque, per tirare le somme, il gioco fino ad ora mi è piaciuto tantissimo. Avrei fatto delle cose un po' diversamente. Vabbè, i produttori del gioco faranno queste fatiche e pavano saranno pure più bravi di me. Grazie per aver visto questo video. Ci vediamo martedì prossimo quando l'avrò giocato a tutti quelli che sono nel condominio questo è pazzo.